Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, quest'oggi essendo venerdì. Qui, subito dopo di noi, ci sarà l'appuntamento con Trieste ed Arte. Durante Trieste ed Arte andremo al Museo Carà di Muggia a visitare una mostra su cantieri e cantierini. È una mostra, devo dire la verità, molto interessante, molto curiosa e molto bella da vedere. Nella prima parte, fra l'altro, parleremo anche di una mostra, una mostra che si intitola Relazioni e rimarrà visitabile nello spazio all'interno della stazione ferroviaria fino a... Fino a dopo la barcolata, fino a dopo la barcolata, fino a tutto ottobre, tutto ottobre, direi ne parliamo con Renato Chicco che all'interno di Confartigianato Trieste è il presidente della... Cosa è? Della sezione artigianato... La categoria dell'artigianato artistico così, allargata. Intanto, chiariamo subito che cosa si intende per artigianato artistico. È abbastanza intuibile per dire la verità, però siccome anche i confini per certi aspetti del termine artigianato sono molto, come dire, ampi, volevo proprio partire da che cos'è l'artigianato artistico. Allora, l'artigianato all'interno della definizione stessa riguarda tantissimi mestieri. Nel concetto dell'artistico noi abbiamo raggruppato tutti quelli che sono legati all'espressione di mestieri che hanno attinenza con la creatività e che sono legati anche all'aspetto della tradizione. Infatti, in regione esiste la definizione artigianato artistico e tradizionale, dove rientrano tantissimi mestieri. Gli orafi, in primis, non in primis, ma perché è quasi dovuto, e poi tutto a seguire, il restauro, la falegnameria di un certo tipo. È ovvio che tante attività si distinguono, in qualche maniera, più nella funzione e alcune nella creatività, se vogliamo, come dire, distinguere. Però il confine è labile. Anche uno che fa il falegname ha i momenti in cui si dedica a cose di una certa creatività. E poi c'è chi lo sceglie come strada primaria. Adesso non vorrei poi spingermi troppo oltre, ma penso che è un discorso che si possa anche fare. Fondamentalmente un certo tipo di artigianato, come potrebbe essere anche quello del lavoro dell'orafo, è arte applicata. Cioè, comunque sono piccole opere d'arte, più o meno funzionali, ecco, insomma, voglio dire. Certo, lo spazio è enorme, uno poi lo può interpretare come decide. La parte creativa si manifesta perché ha la base della scelta che uno fa. È chiaro che noi non siamo in un distretto, quindi quello che privilegiamo è un rapporto di tipo di servizio alla cittadinanza. Prevale sulla parte produttiva, no? Anche se nel caso mio personale, negli anni 90, io entrai nel merito della produttività e fornimo mostre, musei con collezioni adatte ai quei contenitori d'arte. Quindi la creatività c'era. Dopodiché, ripeto, è una scelta personale, uno decide quello che vuole fare. Il cliente ti chiede la creatività. Qualche volta la routine te la porta via, no? Perché bisognerà avere un po' di tranquillità, non avere l'assillo, perché la creatività e la funzionalità qualche volta stridono tra loro. Però, insomma, ognuno poi si dice, ecco, queste fra l'altro sono delle importanti occasioni perché noi abbiamo modo di dedicarci a una creatività, fra l'altro suggerita dagli organizzatori, da un argomento, da un tema e quindi uno può esprimersi come preferisce. Allora, la mostra è stata inaugurata ieri sera e adesso ne possiamo anche far vedere due momenti differenti, nel senso che prima ci sono alcune delle opere in mostra e poi c'è anche il momento dell'inaugurazione stessa. Tra l'altro, dalle immagini che ha realizzato ieri il nostro Enzo Iannacone, si vede anche la funzionalità del luogo, insomma, di questo spazio all'interno della stazione. Allora, il titolo di questa edizione, perché è la settima, diciamo, è la settima mostra che viene realizzata, si intitola appunto Relazioni. E nell'intervista che abbiamo, insomma, si potrà vedere anche nel telegiornale di questa sera, che abbiamo già mandato nel telegiornale delle 13 e 20, il presidente di Confartigianato Trieste ha detto quale luogo, ecco, questa è tua, questa è bellissima, questa devo dire la verità, ha un titolo? Allora, io ho lasciato Relazioni, perché il titolo della mostra è Relazioni, però in realtà rappresenta, l'ho intitolata, cioè la didascalia sua è la schiavitù, e questo rappresenta la schiavitù sotto tutti gli aspetti, quello più palese, quella palla al piede, no? Sì, quella più di ferro, è quella più rappresentativa, però in realtà si collega all'evento, io sia in questa mostra che in quella precedente, che si intitolava Le città invisibili di Calvino, che ci è stata proposta quando è scoppiata la guerra in Ucraina, io l'ho intitolata Da Odessa a Mariupol, perché in quei giorni non riuscivo ad avere una creatività distaccata da quello che stava succedendo. La creatività è anche questa, questa nasce alcuni mesi fa in aprile in occasione degli eventi di Cutro in Calabria, dove la nave va a fondo, cioè noi che in qualche maniera ci rendiamo anche sensibili a quello che avviene intorno, noi riusciamo a vivere in maniera distaccata da quello che ci capita intorno. Ma qui è anche molto bello il tema, secondo me, adesso poi dopo è vero anche che poi ognuno interpreta, e questo è il bello dell'arte, insomma, che ognuno poi interpreta a seconda della propria sensibilità o a seconda della propria, diciamo anche della propria cultura personale. Vedete, poi è questo blocco da cui la figura emerge, ma che nel contempo dal blocco stesso viene appunto trattenuta, viene bloccata. Allora, è un peso, uscire da quell'intruglio di... Che cosa è fatta? Allora, la base è in ferro, poi c'è la parte in bronzo, quella tutta lavorata, diciamo, dove c'è questa magma, e poi questa figura in argento che emerge da tutto questo. Ovviamente la palla al piede, con la catena al collo, poi il fatto della presenza... Beh, io ho usato un po' di oro, un po' di... qualche pietra a presenza, per dare un po' significato al mio... Ma però c'è anche qualche traccia di sangue in realtà, no? Ah, giusto, adesso vedo, sì. Quello è lo smalto che rappresenta un po' la sofferenza di tutto questo. Dietro, quello che vediamo dietro, c'è una struttura che qua non si riesce a leggere perché è inquadrata in parte, che emerge con una figura che potrebbe essere una vela, una barca. E quella foto che si intravede di fondo è un'immagine di un mare, un po' un mare contorto, un mare pieno di sofferenza. Ah, quindi le due cose stanno assieme. E compreso anche quello che vediamo nello sfondo. Ah, ho capito, ho capito. Questo non l'avevo colto, pensavo che fosse solo... No, perché purtroppo nella fotografia non è inquadrata nella... Magari può essere anche che dopo sia inquadrata anche in un altro contesto. Certo. Come sempre ho divagato un attimo, ma nemmeno tanto per dire la verità, perché volevo soffermarmi appunto proprio sul titolo, no? Che è... Allora, ecco, relazioni. In cosa consisteva lo spunto dato dall'organizzatrice della moto? Perché lei si inventa queste cose. Infatti ci sono tante opere che sono sempre composite, sono fatte a due mani o a quattro mani, dove i mestieri e i materiali si intersecano, no? Io nel caso specifico ho fatto un po' tutto da solo, però c'è una cosa, ma non l'ho scritta nel catalogo perché è una cosa molto mia personale. Quella foto di colore sul mare è una foto che mio fratello, che era fotografo, che è scomparso alcuni anni fa, aveva fatto lui. L'avevamo usata per delle installazioni, quindi l'ho usata ma non ho voluto, ecco, è quasi una confidenza. Però ecco, però il concetto era quello, mettere insieme rapporti, relazioni, soprattutto di mestiere e di materiali. Anche perché nell'immaginario collettivo l'artigiano lavora solo, quantomeno per come uno pensa, nella bottega, eccetera. In realtà è così, ma non è, diciamo, usiamo una parola che spaventa, non è abulso. Non è obbligatorio, non è abulso dal contesto generale. No, perché intanto noi abbiamo i collaboratori, o comunque soci, o comunque persone che frequentano lo spazio. Io ho avuto tanti stegisti, io essendo autodidatta di mestiere, perché non vengo né da famiglia né di un percorso formativo, ho sempre dedicato molta attenzione al ruolo dell'inserimento, nelle botteghe dei giovani e quant'altro. Detto questo, è anche vero che io ho, grazie a Dio, buoni rapporti con tutti i miei colleghi, perché anche essere parte di, essere in un'associazione vuol dire condividere le esperienze, le necessità. Dopo ci sono quelli che tendono più il solitario, chi invece ama la compagnia. O tutti i suoi umani, grazie a Dio. Allora, la mostra è organizzata da Confartigianato regionale. Sì, in realtà sì. Spieghiamo anche questo. E di fatto poi in mostra ci sono opere che arrivano da tutta la regione. e abbiamo visto anche, come dire, l'enorme, la differenza insomma di materiali, la differenza anche di soggetti, se vogliamo. Ci sono dei, adesso io non sono molto bravo nell'individuare le tecniche, però insomma ci sono dei collage, ma c'è molto mosaico, c'è molto tessuto, infatti qua abbiamo proprio un esempio. Ecco c'è molto tessuto fra l'altro anche, no? Sì, allora, intanto i triestini sono pochi, ma perché? Perché in realtà la mostra è partita l'anno scorso. Questa fa un po' di impressione, devo essere sincero. Questo è molto interessante, questo bisogna vederla e farsela un po' spiegare, come tutte le cose. Questo è un collega, Tunitz, lui ama fare degli interventi così provocatori. E devo dire la verità, è molto stimolante lavorarsi assieme o vedere le sue opere, no? Ecco, questo è il bello di questa iniziativa, che si va a valorizzare aspetti che qualche volta sono tipici dell'arte, come dire, contemporanea. E c'è qualcuno che porta il restauro, che vuol dire curare tutto il passato. Cioè questa grande… No, questa è arte contemporanea. È arte contemporanea, infatti. E devo dire la verità che anche la partecipazione è stimolante, perché ripeto, avere un tema, avere un po' di, come dire, voglia di emergere, perché fa parte, no? Di essere un po' competitivi, di portare una novità, non di rispolverare una cosa vecchia, anche se qualche volta ci sta, perché magari nell'urgenza riprendi, la rinterpreti, la rinventi. Però direi che è una buona scuola per mantenere viva, ecco, questa non solo la tradizione, ma anche la ricerca e la creatività. Qui vediamo appunto dove è situato lo spazio dedicato, a parte che è visibile, ma comunque, insomma, che è dedicato alla mostra, all'interno della stazione. Questi sono alcuni momenti della presentazione di ieri sera. E alle spalle dei relatori avete visto anche alcune immagini che magari prima non siamo riusciti a farvi vedere. C'è anche questo, e torno magari al discorso che si faceva prima, tanto qua avete cambiato posta posizione, perché tu eri dall'altra parte. Sì, ma ci sono stati diversi momenti. Ma voglio dire, c'è anche questa idea del lavoro dell'artigiano, come posso dire, mai fine a se stesso, ma sempre in rapporto con la committenza, con il cliente, eccetera, che però non impedisce a chi lo voglia, e lo dicevi anche tu prima, di andare avanti per conto suo e di dar vita a opere, diciamo, autonome. Penso sia così. Sì, sicuramente è un'occasione questa, in modo particolare. Però è chiaro che quando tu porti… Allora, io ho fatto lì una scultura. Io principalmente faccio gioielli, che hanno una funzione, una vestibilità. E da quando ho iniziato, che ho sempre accettato e privilegiato il rapporto diretto col cliente, e privilegiandolo rispetto a fare delle mie creazioni che seguissero un loro filo conduttore, c'è o non c'è, è poca importanza. Ma in realtà per me il cliente è sempre stato forte di grande stimolo, perché ti pone di fronte a delle scelte che provengono da lui, che tu non avresti magari mai immaginato di prendere come esempio della tua creatività. E quindi è anche uno stimolo, è anche un misurarsi con cose che provengono realizzate e richieste da altri. Nella sua semplicità. Certo, ci sono tantissimi aspetti. Una mostra va vista più volte. Ed è ovvio anche questo, ma è anche molto colorata tra l'altro. A me piacciono le mostre colorate. Certo. Logicamente qui, essendo una varietà di stili e di materiale, il colore, questo design è splendido. E qui c'è la funzione, ma l'artigianato si caratterizza. Infatti vedi che nella maggior parte degli esempi tutte le cose hanno una loro funzionalità. La maggior parte. Poi ci sono anche i pannelli decorativi, l'immagine. Qui c'è questo manico di legno che fa la differenza. Ma in questi sette anni di lavoro a livello regionale ci sono state create delle opere d'arte. Allora, adesso noi artigiani intendo, la definizione artista ci va un po' stretta. Non è che ambiamo ad avere quel riconoscimento, ma ci va un po' stretta. Uno potrebbe pensare… Ti spiego perché. Perché, come posso dirti, mi ricordo che una volta, tanti anni fa, un giovane mi chiede ma perché tu preferisci farti chiamare artigiano e no artista. E io ho, come in quel momento gli ho rappresentato, l'immagine dell'artista che viene dalla sofferenza, da un travaglio interiore, da tutti questi aspetti che sono no. Che noi, in qualche maniera, probabilmente la parte creativa, chissà perché, deve emergere sempre con questi fastidi, con il dolore. Non è vero. La creatività emerge anche con la felicità, con il piacere, con la ricerca e la scoperta. Allora, perché privilegio un po'? Perché poi questo tutto mi riconduce un po' al rinascimento. Quella volta non si facevano chiamare artisti. Erano tutti artigiani. La parola la contiene già nella sua, nella parte della sua. Dopodiché, se vogliamo fare un po' i sofistici, possiamo adentrarsi in questi dettagli. Però è così. L'artigiano ha, come dire, in qualche maniera i piedi per terra. E questo gli consente anche di avere, senza togliere niente a nessuno e alla creatività e alla fantasia di chi interpreta anche altri aspetti a livelli massimi. Però, so come dire, per me, non so, la figura del nuovo Michelangelo Iago è un artigiano. Lui, là si vede proprio il lavoro manuale nella sua essenza. Adesso riesco a capire la sottile differenza se, come spesso succede, l'applico al cinema, dove mi muovo con una maggiore facilità. Ci sono gli artisti che però molto spesso appunto sono anche distaccati dal... E ci sono, soprattutto i registi che vengono definiti qui, i grandi artigiani hollywoodiani, erano quelli che confezionavano i film più visti, i film più apprezzati e i film che col passare del tempo pure guadagnavano qualche cosa. laddove il lavoro dell'artista con la A maiuscola, cinematograficamente parlando, è un po' anche cristallizzato, no? E quindi non sempre accessibile, eccetera. Quindi capisco la sottile distinzione, insomma. E poi ecco, tra l'altro, queste anche sono cose, possono sembrare più facili, possono sembrare meno, virgolette, artistiche. Ma nella mostra c'è anche una parte cosiddetta commerciale, no? Perché tutte le grandi mostre hanno sempre avuto alla fine del loro percorso un posto definito merchandising culturale o bookshop dove uno può acquistare un qualche cosa che rimanda al contenitore stesso. E anche noi, anche qua, abbiamo voluto dare spazio a colleghi che si dedicano anche a questo. Ma io potrei raccontare tante storie su questi aspetti perché per una decina d'anni ho fatto questo di bestiere. Cioè fornivo contenitori culturali con prodotti collegati all'iniziativa. Questo è un po' un... Eh beh, qua anche... Eh sì, anche chi produce dolciumi può farli belli anche qui, anche qui hanno il diritto di essere belli. Cioè, incidenti, poi... A quest'ora è sempre un po' di voglia, è vero? Allora, parliamo un pochettino del contenitore. Del contenitore. Allora, perché stazione? E qua ci sarebbe da fare un bel... Una bella parentesi, aprire una bella parentesi. In realtà è stato quasi casuale perché io cercavo uno spazio con Barcolana inclusa e ovviamente Trieste è tutta impegnata. Quindi ci fu proposta questa ipotesi. L'idea la ebbe il nostro direttore, Enrico Eva. E io dissi, ma perché no? Andiamo a vedere. E ci proposero questo spazio. Lì, tutte le vetrate erano oscurate da una pellicola semitrasparente per evitare di vedere dentro cianfrusaglie e roba, no? Perché per avere una certa immagine. Però io l'ho vista così, ho detto immaginando, tiriamo via gli adesivi dai vetri ed è una vetrina che funziona anche quando è chiusa. Perché la mostra è aperta ai fini settimana, venerdì, sabato e domenica e poi per alcuni giorni è chiusa. Dopo la riprendiamo tutta aperta durante la Barcolana, però la vedi, perché si accende, c'è un video, si passa. La mia preoccupazione era quella di cogliere alcuni, come dire, alcuni momenti di funzionalità più legata alle nostre esigenze. Mi sono soffermato un po' a lungo, ho visto, sì, ci sono gente che arriva, arriva un treno, c'è un flusso di persone, hanno fretta di uscire o di partire, stessa roba, però è attaccata la sala di aspetto, è attaccata il bar. E poi ho detto, però, questa stazione è bella, spaziosa, ma in fondo anche vuota. Io me la ricordo, la stazione c'era il cambio valute, c'era lo sportello di quello, c'era il tabacchino, c'era due tabacchini, c'erano due edicole, c'era, non so, era vita. Oggi tu compri il biglietto in internet, arrivi, prendi il treno, cioè diventa un passaggio di... Sì, 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 è vero, è vero. Allora, però bisogna anche dire questo, io ho memoria, perché sono stato, diciamo, coinvolto in un consorzio regionale dove noi, artigianato artistico, andavamo per conto dell'ESA, quella volta si chiamava Ente Sviluppo dell'Artigianato, e in tutta Europa e anche fuori Europa, in America, in altre sedi, abbiamo fatto la promozione, attraverso i nostri prodotti, della Regione, cioè venivamo interpellati per fare... eravamo braccio operativo di questo Ente. Il consorzio si chiamava Consorzio Lattore, aveva la sede di Vella Manin, avevamo 5 punti vendita in Regione, questo fino alla fine degli anni 90. Dopo politica, abbiamo fatto altre scelte, e vabbè, questa roba è cambiata. Però qui siamo, la stazione è un biglietto d'entrata, un biglietto da visita, una cartolina della città. Allora, è questo, aver messo questo primo piede là dentro, ci conforta perché, come prima ti raccontavo, è intervenuta, non in veste ufficiale, perché ha voluto fare in veste privata, la Presidente del gruppo ferroviario dello Stato, alla quale io questa domanda le ho fatte, non sono riuscito a dire, ma abbiamo fatto bene a dar vita. Lei era entusiasta, e fra l'altro mi ha confermato che era anche nelle loro idee, ma io questa cosa l'ho percepita perché già con i suoi collaboratori, che ci hanno aperto la porta, ci hanno mostrato, all'inizio percepivo questo loro desiderio di rivitalizzare la stazione e di riportarla con dei contenuti, che purtroppo per il momento non ci sono, ma ci sono gli spazi, e se la cosa funziona, piano piano, magari a catena, riusciamo a coinvolgere anche altri settori. Provo a pensare per esempio a collegare questo alla tipicità dei prodotti enogastronomici, vino, l'olio, le robe. Tu entri e hai un biglietto, cioè entri in una città che è cambiata. Che poi fra l'altro, devo dire la verità, ma questo lo dico molto spesso, io prediligo viaggiare in treno. mi rilassa, quindi trovo appunto che la stazione sia un luogo, debba tornare ad essere il luogo che era fino a una quarantina d'anni fa, poi dopo si sa che questo paese ha a sua volta privilegiato un certo tipo di trasporto a scapito di un altro, per tutta una serie di cose sulle quali ormai non è il caso di tornare, e quindi i treni devono un pochettino riguadagnare il tempo perduto. Però voglio dire, adesso i treni sono molto più belli, sono molto più... Un viaggio in treno, se non succedono ritardi particolari, è anche molto comodo. Io ho fatto Trieste e Napoli in treno, non senti le otto ore... Ma no, non si mancherebbe. Invece, ci abbiamo verso la conclusione, cambiamo un po' argomento, non vorrei che sembri un'entrata in gamba tesa, la situazione del comparto artigiano com'è? Anche qui tenendo conto che si tratta appunto di una galassia... Anche i tassisti sono artigiani. Anche i tassisti sono artigiani. Ma allora, insomma, come tutti subiamo le conseguenze di tutto quello che accade, Covid, no Covid, indifferente crisi economica. Tra l'altro le nostre sono state fatte anche in epoca di pandemia, tra l'altro. Sì, sì. Beh, noi stiamo cercando anche di sviluppare tutta la parte digitale, diciamo, di queste proposte, no? Stiamo elaborando dei progetti per far vedere... Allora, faccio l'esempio, uno arriva in stazione, sta per partire, noi abbiamo QR code là all'ingresso, uno lo inquadra, sale a bordo del treno perché è di fretta e si può guardare la mostra, cioè, oggi abbiamo dei mezzi che sono incredibili. E noi intendiamo ad operarli tutti, questo ha vantaggio delle imprese. Dopo c'è chi magari si dedica anche con la propria produzione alla commercializzazione dei prodotti attraverso la rete, che io non amo molto queste cose, devo dire la verità. Io se devo comprare una roba la voglio toccare, la voglio vedere e se la vendo voglio avere un rapporto con la persona. Siamo sempre là. Che mi gratifica, no? Mandarla a uno che non so chi è, che non so come si veste, non so. Anche perché, vedi, il fatto della creatività. Io faccio gioielli e quando una persona entra nel mio negozio devo un po' inquadrarla, inquadrarla, capire cosa proporle o se mi chiede di disegnare una cosa, devo un po' guardare le mani delle donne, per esempio. Capisci? Cioè, il modo di vestire, la personalità, perché vanno alla ricerca di questo. Oggi noi questo rapporto lo abbiamo un po' spersonalizzato perché passa attraverso la rete e lì uno sceglie con altri criteri, no? Vabbè, insomma... Non so neanche se sia nemmeno corretto dire sceglie. No, infatti qualche volta viene indotto da più cose. Infatti ho un po' di nostalgia degli anni Ottanta, quando avevo delle clienti che mi dicevano mi faccia quello che vuole, che non ha importanza, basta che non sia uguale di quello che vedo nella vetrina D. No? Ma perché questo? Perché alla prima ricerca è una cosa unica, è che forse anche personale, che fosse fatta a misura D. E poi le chiedevo, vuole un premettivo? Ma no, non mi interessa, tanto... Beh, insomma, c'era una, come dire, una piccola borghesia illuminata culturalmente che mi ha dato tanto spazio, devo essere grato a chi mi ha un po' come dire... Io all'inizio, un po' alle prime armi, ho avuto la fortuna che una mia cliente mi ha fatto d'apripista in questo e mi ha portato in un buco, dove ero, col primo laboratorio, la creme della creme della città. Dove ero il primo laboratorio? Il primo laboratorio l'ho aperto in via Piranella, che è esattamente una laterale tra via della Bora, dietro l'abside della chiesa di Santa Maria Maggiore, e sfocia in via della cattedrale, una stradina di 50-40 metri con una scalettina. Via Piranella? Piranella, sconosciuta. Ma io là, guarda, ho comprato la macchina in contanti, erano gli anni 80, 20 anni 80. Lo dico sempre con un po' di ironia, perché in effetti è vero. Poi, venendo da una… io, grazie a Dio, no, grazie a Dio, ho il mio percorso personale. Prima lavoravo in uno studio di architettura e parallelamente avevo questo pallino dell'orificeria. E sono riuscito a… e ti dico la verità, è anche un piccolo vanto. Mi sono iscritto alla Camera di Commercio, all'albero dei artigiani, prima ancora di imparare il mestiere. Caso quasi… Quindi l'unico grano. L'iscrizione a che anni… Io l'affitto, l'ho preso in affitto quello spazio nel 75. 75? Mentre lavoravo con lo studio di architetti semerani sul piano particolarizzato del centro storico di Trieste. Mamma mia, sembra… E posso dirti che nel 25 festeggerò 50 anni di questo mestiere. Quindi tra due anni? Sì. 50, eh? Non è pochi. No, 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 non è pochi. E poi anche sono… adesso… ah, siamo in chiusura. Chiudo rapidamente. Sono anche 50 anni importanti, secondo me, perché 75, 2025 è passato di tutto. Metà millennio di qua, metà millennio di là. È vero, anche questo, è vero anche questo. Metà di qua e metà di là, insomma. Non è… È impegnativa. È impegnativa, è impegnativa. Quindi tu hai incominciato quando le macchine arrivavano ancora in Piazza Unità. Ossia. E tutti i ricordi… Ma andiamo un po' oltre… Sì, non abbiamo… Tutti i ricordi come era via San Nicolò con le macchine. Io no. E come lo mi non me lo capisco. E mi ricordo anche la levata di scudi dei commercianti. Perché la abbiamo quella volta quando la… Ma come ti ricordo io quel periodo, ero anche coinvolto con la lista Indy, no? No, è stata un'esperienza interessante, però la città ha capito e ha cambiato. Mi pare di capire. Sì. Allora, grazie Renato Chicco per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordatevi questa mostra, relazioni all'interno della stazione, diciamo a metà strada, fra l'ingresso e i binari. Ma insomma… Di fronte al bar. Di fronte al bar. Tra l'altro, quindi ci si passa davanti in ogni caso che rimarrà aperta fino a post Barcolana. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi c'è l'appuntamento con Trieste d'Arte. Grazie ancora a voi. Grazie. 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 Grazie.